sono nove i terremoti di magnitudo superiore a 3 registrati nella nostra penisola il giorno 23 settembre di questi due sono di magnitudo superiore a 5 il terremoto più forte è quello avvenuto sulla attuale costa croata nel 1878 nonostante non sia avvenuto in territorio italiano è tuttavia degno di menzione perché verificato sia poca distanza dalla nostra nazione tuttavia non ci sono sufficienti informazioni per valutarne l'impatto sulle nostre città il terremoto della marsica del 1915 è secondo molti studi un aftershock ovvero una scossa inserita in una sequenza di eventi che si verifica dopo l'evento principale legato al terremoto del 13 gennaio 1915 di magnitudo 7 terremoto trattato in un video a parte degno di menzione è il terremoto di magnitudo 4 avvenuto nel 1938 in valle d'aosta infatti secondo le conoscenze attuali sono solo sei i terremoti di magnitudo superiore a 3.5 localizzati all'interno o ai confini di quella regione anche se in realtà gli eventi risentiti sono il numero maggiore per i forti terremoti avvenuti a nord nella zona del vallese in svizzera e a sud nel piemonte settentrionale l'evento sismico del 1938 è descritto in molti quotidiani dai quali però non si evince alcun danno mentre secondo alcuni bollettini sismici sarebbero stati osservati danni leggeri alle abitazioni è da notare che nel 1938 erano molti gli strumenti sismici in funzione nella nostra nazione in quelle limitrofe si trattava di strumenti ancora molto rudimentali in grado però di produrre sismogrammi estremamente preziosi nella ricostruzione della storia sismica dell'italia purtroppo in molti casi il materiale è andato perso lasciando talvolta aperte questioni geologiche di rilievo soprattutto nelle aree a sismicità di minore magnitudo per informazioni sulla differenza tra i tempi in cui sarebbe avvenuto l'evento come pubblicati sul bollettino sul catalogo e sull'articolo mostrati in questo video rimando ai terremoti in pillole numero 43 in breve l'ora in cui avviene un terremoto è spesso citata come ora locale della nazione in cui il terremoto è percepito se riportata dagli organi di stampa e nelle descrizioni ma è invece riferita al meridiano di greenwich nei trattati e nei cataloghi scientifici così facendo si ha un riferimento obiettivo per i sismologi in tutto il mondo nel calcolare il tempo assoluto si deve ovviamente anche tenere conto dell'ora legale in tale situazione infatti la differenza di tempo rispetto a gmt è per l'italia di due ore tuttavia in questo caso vi è sicuramente stato qualche problema nell'interpretazione dell'orario il terremoto è avvenuto alle 2 52 locali come testimoniano gli articoli sui quotidiani nel 1938 né la svizzera né l'italia avevano adottato l'ora legale quindi l'orario riferimento a greenwich dovrebbe essere alle ore 1.52 come riportato sui bollettini sismici